Il Comune in qualche modo sosterrà i familiari delle vittime del sisma. In consiglio è arrivato un ordine del giorno per far sì che il Comune si faccia carico delle spese legali per sostenere i familiari delle vittime del sisma, che dovranno pagare circa 14.000 euro di spese legali dopo le ultime sentenze che tanta indignazione hanno creato in città. E con una manifestazione che si è svolta in città, appunto, nei giorni scorsi, lo ha presentato Simona Giannangeli dell'Aquila Coraggiosa, sottoscritto dalle minoranze. Io ho presentato un ordine del giorno che è stato firmato da tutte le forze di minoranza proprio per impegnare il Sindaco e l'Aggiunta a voler reperire quelle risorse in adeguate voci di bilancio per poter sostenere i familiari che sono stati condannati anche al pagamento delle spese legali. Questo credo sia un ordine del giorno doveroso, sia un atto politico e morale di rispetto e di reale volontà di un'amministrazione comunale di essere al fianco dei familiari delle vittime. Visto che questo ente, in 15 anni, ha sempre dichiarato profonda solidarietà, grande vicinanza, è il momento di fare un ulteriore gesto concreto, vero, autentico. In apertura di consiglio, però, i consiglieri di Fratelli d'Italia Livio Vittorini e Leonardo Scimmia hanno presentato un secondo ordine del giorno, comunque favorevoli a quello della Giannangeli, che promuove una raccolta di fondi con il gettone di presenza donato di consiglieri, giunta, associazioni e sindacati, per costituire un fondo che, se sarà superiore ai 15.000 euro che servono per sostenere le spese, si investiranno sempre in attività di sostegno.